Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Ragazzi, anche oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh! Duel Links e ragazzi lo so, vi volevo portare più partite ma non ce l'ho fatta. Comunque, le qualificazioni finali, cioè le finali per il World Championship 2017 sono iniziate. Io non mi sono ancora qualificato ma ragazzi non ci crederete, con il mio Deck Arpia che poi ho modificato, cambiato più e più volte in questi due giorni che ho giocato, sì ho giocato per ben due giorni, sono arrivato al rango Platino 1 come potete ben vedere qui in alto a destra. Però c'è una cosa che voi non crederete. Sono salito in Platino 1 ben quattro volte ragazzi e per la quarta volta sto rischiando di scendere di nuovo. Infatti guardate qui, allora, oro 1, oro 1, oro 3 vinto, queste tre vittorie mi hanno fatto salire in Platino. Adesso prima fatta sconfitta, seconda sconfitta e devo fare la terza partita. Quello ragazzi che mi sta dando un enorme fastidio è che queste partite che perdo le perdo perché il Deck mi gira male. Però mi gira male solo quando salgo in Platino e sembra scriptata la cosa ma è così. Andiamo a giocare l'ultima insieme perché se perdo questa scendo, però vi dimostrerò che per dire questa la perdo, poi appena scendiamo in oro, il Deck mi inizia a girare in una maniera pazzesca e le vinco tutte. Infatti ogni volta che scendo faccio tre vittorie di seguito e risalgo. Questa cosa mi è capitata per ben quattro volte di seguito. Quindi ragazzi è una rottura di capaciti assurda. Ok, stiamo contro un altro che anche sta per scendere, quindi sarà ingrippato tanto quanto me. Vediamo un po' che Deck tiene e più che altro vediamo che mano ci esce. Ok, inizia con scansione mentale. Eh, scansione mentale dobbiamo stare attenti. Fino a chi avrà 3000 punti ci vede le carte. Ecco ragazzi, cioè voi mi dovete dire, mi dovete dire che mano è questa. Cioè non è possibile ragazzi, non è possibile. Me lo fanno apposta. Guardate, quando gioco in platino queste sono le mie mani. Cioè praticamente mi hanno abbuffato la mano di carte trappole e magia. Che poi ragazzi, come mostri normali ne ho, mi sembra, 7 da poter giocare. Più le sorelle arpie sono 8. Praticamente mezzo Deck è fatto di mostri, loro non me ne fanno avere. Cioè è una cosa assurda. Adesso già sono stato fortunato ragazzi, eh. Avere questa led di arpia è stata già una fortuna. Ve lo assicuro al 100% perché fino ad adesso voglio aspettare prima di avere un mostro. Comunque andiamo a distruggergli la sua carta coperta, anche se sarà un bait ragazzi, senza ombra di dubbio. Infatti lo sapevo. Perché lui si aspettava che io giocassi la led di arpia. E comunque, anche se lui la carta la vede, io mi setto giusto una carta trappola. Perché, vabbè no, voglio anche attaccare ma non posso, infatti sono un pirla. Perché non si sa mai lui che cosa gioca. Però già che ha giocato una carta del genere, secondo me, mi sono beccato ancora una volta uno di quei deck veramente antipatici. Che, praticamente... No, fatemi vedere, scopriamo di quando ho un mostro sul terreno. Aspettate un attimo. Ok, questa carta me la ricordo. Fino alla fine del tuo turno, ok. Ok, ok, ok. E poi se è il tuo avversario, ho capito, va bene. Ci ha giocato un cavolo di 2006 che attiverà anche l'effetto. Ok. Questa qui, ragazzi, comunque è una buona carta. Soprattutto in qualche deck, appunto, dove usiamo i tributi, eccetera, eccetera. Lui vede la mia carta coperta, quindi non so chi mi conviene fare. Andiamo con il curibo. Il problema è che adesso il suo è un bel 2600 e devo vedere un po' come buttarglielo giù. Potrei... Il problema è che lui, ragazzi, con scansione mentale ci vede le carte che abbiamo coperte. Quindi, se gioco muro a specchio, lui non attaccherà mai un mio mostro. Quindi, che mostro dovrei pescare per poter fare qualcosa? Bene, bene, praticamente niente, ragazzi. Praticamente un corno, perché ecco, ci ha giocato... Marsalto un'altra carta del cavolo. Va bene così. Quindi, cerchiamo di andare avanti e di continuare a sopravvivere. Purtroppo, no, non so proprio come fare, perché lui ha questo 2006 che tutta più potrei prendere con controllo avversario se... Sempre se avevo un mostro. Cosa che non è. Lui adesso attaccherà giustamente per farmi attivare il mio controllo avversario, visto che lo sta vedendo grazie a scansione mentale, che è un'altra abilità veramente troppo sgrava. E quindi lui si potrà basare, di conseguenza, in base alle carte che abbiamo. Noi teniamo solo carte, trappole e magie che ci stanno uscendo, ma veramente il deck dopo ve lo faccio vedere, ragazzi, perché l'ho cambiato. Non è... cioè, ho fatto un altro deck che è simile a quello là, arpia, sbarra, abbandono, ma è praticamente solo deck arpia. Mi manca giusto un uccello, una maschera faccia da uccello lì, insomma, quello là che ci fa prendere le arpie. E poi il deck, diciamo, l'ho completato, ecco, faccia da uccello. Mi manca giusto un altro di questo e io, diciamo, l'ho completato il deck che volevo fare. Ora, davvero, non so che fare. Ora, questo qui a me mi diventa un 1.800. Il muro a specchio, tanto lui sa che lo tengo a questo punto, quindi glielo faccio vedere, cioè, nel senso, adesso lui lo saprà. Quindi, almeno, non dovrebbe attaccare, quindi almeno ci siamo salvati su questo. Attacchiamo, vediamo che cosa tiene coperto lì. Non mi dite che tiene il Curibosfera in mano, perché è una cosa incredibile, no. Ok, ci va di Criceto. Cioè, ragazzi, praticamente, boh, non lo so, siamo messi abbastanza male, detto proprio con la massima sincerità. E niente, allora, facciamo così, terminiamo. E allora, lui adesso potrà giocare e potrà contare su altri due Criceti per fare le evocazioni. Quindi, il Criceto lo tiene sempre lì, anche per il prossimo turno. Esatto, potrebbe benissimo giocare un altro Drago Revolver e sarebbero Cavolini. Ok, ci va di effetto, perché, ragazzi, è giusto, è giusto. Io lo sapevo che poteva benissimo giocarsela in questo modo. Dobbiamo solo sperare che, ecco, che almeno non vinca. E, ragazzi, è tosta, perché, non lo so, non so neanche che carta potrei mai pescare per poterlo sconfiggere. Cioè, sinceramente, dovrei beccare un, non lo so, un ordine di carica, sì, è buono. Il problema è che ordine di carica devo avere, per forza, un mostro normale, che potrei ottenere facendo attaccare il mio uccellaccio qui. Il problema è che se lo faccio attaccare, dopo non faccio più questo, diciamo, una volta per turno facciamo avversario con un contratto avversario. Ecco, quindi lui dopo avrà un'altra occasione di distruggerci il mostro. E se ce lo distrugge in quel modo, noi non possiamo attivare più il suo effetto di prendere una Lady Arpia e di distruggergli, appunto, Drago Revolver. Quindi, che cosa dovrei fare? Sembra una cosa assurda, ma dovrei attaccarlo, farmi distruggere il mostro, al prossimo turno sopravvivere grazie a questa carta qui, e poi andarci di Lady Arpia, ragazzi, è l'unico, l'unico modo che ho di giocare, in questo caso è l'unico modo. Purtroppo non mi sta girando bene e ve lo assicuro, ragazzi, sembra una scusa perché lo direi anch'io, ma succede questo solo qui, nelle lighe di platino. Entro nel platino e mi succede questo, senza considerare, ragazzi, che nel platino giocano tutti lo stesso deck. Il deck barn, con quel cavolo di bruchito hagal, come si chiama lui, ed è uno schifo, ragazzi, perché praticamente giocano tutti quel deck ed è proprio brutto, 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 infatti, bah, non lo so. Ok, comunque, fatto sta che un altro grande problema sarà proprio quello di giocare le Lady Arpia, perché dovrò spaccare le carte trappole e magia. Bene, quindi, giocare la Lady Arpia e giocare le sorelle Arpia dovrò distruggermi due carte. Chi distruggo? Praticamente niente. Quindi devo distruggere proprio la carta terreno e quindi mi ritroverò con delle carte comunque abbastanza deboli come punti di attacco. Ok, lui ci va di Criceti, tanto sa che io gli blocco tutto. E infatti, guardate come mi fotte, ragazzi. Cioè, mi ha proprio fottuto alla grande. Sì, glielo dobbiamo dare, ragazzi. Ci ha fregato veramente, veramente tanto. Però, però, ragazzi, noi subiamoci questi danni, perché sto avendo una buona idea. Allora, forse... No, oddio, però. Allora, se faccio così non posso... Cioè, non ho lo spazio libero per poter attivare dopo la carta che mi serve. Quindi, diciamo, ho un po' sbagliato a giocare quell'ordine di carica coperto. A questo punto mi conviene dimezzare i danni, a questo punto. E ci sprechiamo un muro a specchio, purtroppo. Lo so, purtroppo devo giocare in questo. Lui ha quattro carte in mano, quindi, ragazzi, io penso che la partita sia già persa. Detto proprio con la massima sincerità, penso che la partita l'abbiamo già persa. Però dobbiamo provarci fino alla fine, perché... Non lo so, ragazzi, gioca un deck di merda, comunque, il nostro avversario. È un deck strano. È un deck senza senso. O comunque, se ce l'ha un senso, è un senso proprio stupido. Quindi, già mi dà fastidio perdere contro certi soggetti. E vabbè, ok. Papera sonica, vediamo un attimo. Non attivare l'effetto di muro a specchio ci libera uno spazio. Poi, ci giochiamo la nostra Lady Arpia. Giocare la Lady Arpia spacchiamo la nostra carta terreno, purtroppo, perché dobbiamo farlo. E possiamo giocarci la seconda carta magia, eccola qui. Egotista elegante, ok. Quindi così non dovrei dover fare più sacrifici di carte trappole magia sul nostro terreno. E dovrei riuscire a distruggere entrambi i criceti, infliggendo dei buoni danni. E al prossimo turno, attivare ordine di carica, distruggere il mio 1300 per il suo 2006. E praticamente abbiamo avuto un vantaggio su tutti i fronti. Quindi, questa è l'unica giocata possibile che io ho potuto fare per provare a giocare. E se tutti i danni vanno in porto, lui dovrebbe scendere al di sotto dei 3000, se non sbaglio, se non sbaglio. E scendere al di sotto dei 3000, almeno non guarda più le nostre carte coperte, anche se ormai le ha viste tutte. E infatti, infatti lui, ecco, lui si difende, perfetto. Allora, lui ci difende, ma a questo punto ragazzi, attiviamoci questo ordine di carica. E andiamo a spaccargli il suo Drago Revolver. Vediamo un po', allora. Dobbiamo semplicemente sperare che tutte quelle carte che ha in mano il nostro avversario non siano delle carte eccessivamente buone. Comunque abbiamo un 1700 in mano, che non è male, lo dobbiamo dire. Lui sposterà il Criceto in difesa e, se tutto va bene, comunque la partita l'abbiamo provata a recuperare. E invece no, perché porca vacca. Cioè, praticamente lui si è fatto un deck dove si basa nel prendere i mostri dell'avversario e tributarli. Perfetto, perfetto. Cioè, è una cosa incredibile. Ed è anche buona come tattica, effettivamente. Ok, ok. Lui adesso attaccherà. Ma tanto lo sa che cosa tengo. Eh, giustamente, porca vacca, si sposta il Cricetino in difesa. Ah no, non ha voluto attaccare. Ok, ok. Non ha voluto attaccare e questa cosa mi sorprende. Questa cosa mi sorprende, ma... Fatemi vedere un attimo una cosa. Allora, lui ha questa carta che cosa dice? Influgendo combattimento per forante al tuo avversario. Ecco, già una cosa che non è buona. Allora, se ci fa dei danni, pesca una carta e se attacca un mostro in difesa, infligge comunque i danni. Praticamente è una bellissima rottura come mostro. Allora, qua mi dice che il tempo sta scadendo, ho capito, ma se non mi fai attaccare non è colpa mia. Quindi attacchiamo il Cricetino. Speriamo che non ha niente lì sotto. Lui purtroppo, purtroppo, vede le mie carte, ragazzi. Sta vedendo le mie carte, quindi sa anche che io ho il mio Mikizure. E ragazzi, purtroppo non posso fare diversamente perché le devo giocare. Perché non giocarle vorrebbe dire fare il suo gioco. Semplicemente lui però adesso si può basare sulle carte che ho. Infatti, lui adesso non attaccherà perché sa che io glielo sposto in difesa e poi glielo attacco. Fatemi capire un po', fatemi vedere. Offre come tributo un mostro per prendersene uno dei miei. Ok, fino a qui ci siamo. E forse, forse, ho capito che cosa vuoi fare. Vuoi spostarti in difesa il tuo mostro per poi farmi attivare i miei. Fammi vedere. Esatto. Quindi devo scegliere se beccarmi questi 1.900 o 1.700. Ovviamente mi becco i 1.700 perché così facendo lui almeno non pesca perché sennò pescherebbe. E da un lato è buono perché prendo 1.700 ma probabilmente possiamo attaccarglielo e distruggerglielo senza problemi. Oh, bene ragazzi, finalmente un poco... No, che cosa ho fatto? Oddio, la posso attivare? Sì, vabbè. Ok. Gli possiamo distruggere la carta coperta. Finalmente un po' di fortuna. Finalmente un po' di fortuna. Ok. Andiamo a distruggergli il suo 1.400. E ragazzi, abbiamo solo 600 life points? Questo è vero. Ma finalmente abbiamo un vantaggio. Lui sta a top deck, ragazzi. Lui sta a top deck. Noi abbiamo due carte buone, due buone carte sul terreno. Praticamente due attacchi diretti e abbiamo vinto. Ok, ordine di carica. Ordine di carica va bene e io me la setto comunque, anche se lui la vede non fa niente, perché se no poi non la posso più giocare potrebbe cambiare l'esito della partita. Quindi hai visto che tengo ordine di carica? Non mi interessa. Tutto sta a ciò che pesca. Cioè, se lui adesso pesca un po' di carte brutte, sperando. Ok, un buon 1.800 mi dici. Ok. E sicuramente mi attaccherai. E infatti così facendo mi hai comunque levato il mostro. Però, però, però avete visto, almeno ordine di carica ci è servita. Avrei potuto utilizzare anche Mikizure, ma comunque avrei perso 100 life points che vi assicuro che a questo punto anche 100 life points sono importantissimi. Allora, un mostro per un mostro. Siamo tutti e due più o meno a top deck. Tutto sta a che cosa pesco. Ok, Lady Arpia va benissimo, va veramente bene, perché comunque è un 1.600. Comunque lui perde tanti life points e rimane veramente a poco. Allora, 300. Ragazzi, se non pesca un mostro, perché quello che aveva prima in mano non era un mostro, abbiamo vinto. Bene. Come al solito riesco a nascolare. A daccelo anche a noi un mostro, non ce l'hai dato, ma mi hai dato un'altra carta buona. Che, porca vacca, ho utilizzato già tutte le Lady Arpia. Cioè, sì ragazzi, no. Mamma mia, mamma mia. Abbiamo utilizzato già tutte le Lady Arpia. Allora, ce la settiamo giusto per far vedere. E attacchiamo. Vabbè, 1.600. Che cosa può mai tenere? Non lo so. Ok. Prende il controllo fino alla fine del turno? Mi sembra di sì. Quindi mi dovrebbe tornare subito. Ho sbaglio? Sì. Ok, meno male. Meno male. Ci è andata bene. Tutto sta dai ragazzi al top deck. Ok, abbiamo vinto. Meno male. Ok ragazzi, è stata una partita veramente... ...stenuante e... ...brutta. Cioè, bella alla fine, ma all'inizio è stata una cosa incredibile. E non so per quale opera dello Spirito Santo io non sia sceso di nuovo al gold. Sarà stato perché mi hanno voluto non buttare giù di nuovo nei gold dopo quattro volte che lo avevano fatto. Comunque, mi state portando fortuna. Facciamocene un'altra. Non so quanto tempo è che registro. Forse uscirà un video un po' più lungo, ma non fa niente. L'unica cosa, spero che il deck giri un po' meglio. Perché le potenzialità, ragazzi, questo deck le tiene. E non appena avrò l'ultima carta vi porterò un bel po' di deck list. Perché, ragazzi, ne ho un bel po' da portarvene. E vi saranno utili per il futuro e anche per i prossimi tornei, se ci saranno. Ma ci saranno. O comunque, anche per salire semplicemente in rank, vi saranno utili. Però, ragazzi, devo ammettere che grazie a questo torneo praticamente abbiamo raggiunto il nostro record, che è il Platino. Che fino ad adesso non avevamo ancora raggiunto. Allora, questa volta si è mandati contro Bruchido Aga e ha subito, ovviamente, attivato la carta più antipateria del mondo, insetto di Giada. Quindi, perfetto, ci ritroviamo con il primo insettone sul terreno. E, perfetto, di prima mano terra infuocata. Cioè, ragazzi, voi mi dovete letteralmente spiegare io come devo fare. Come si fa a giocare contro dei deck del genere. Mo, lasciate stare che siamo stati fortunati. Perché siamo stati fortunati. Perché grazie a Nobeluomo io gli spaccherò la carta coperta. E forse, no, non sono stato fortunato, anzi, manco per il cavolo. Però, forse, subendo un po' di life points, adesso in qualche modo mi inventerò qualcosa. Forse, riusciamo a fare qualcosa in questa partita, ma vi rendete conto che ci ha levato ben 1500 life points, ci ha levato la nostra carta terreno, ci ha messo un insetto del cavolo che ci dà fastidio. Cioè, tutto in un niente. E lo fanno sempre, sono dei deck antipaticissimi. Comunque, 500 per ogni mostro, praticamente, devo, devo giocarmi la lady arpia che purtroppo è un 1300, quindi devo andare a distruggerla contro il suo mostro per fare che cosa? Per niente. Devo prebeccarmi prima delle life points con questo insettone e poi devo usare la lady arpia. Non lo so, cioè, è una situazione veramente brutta, ragazzi, veramente, ma veramente bruttissima. Se lascio l'insetto in difesa, subirò sempre e comunque più danni, quindi facciamo così. No, l'insetto non lo posso neanche spostare perché mi è appena stato messo, quindi, ragazzi, niente. Vedete? Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, vabbè che questo ragazzo, la massima fortuna, cioè, tutte le carte giuste, c'è l'insetto, la carta per evocare l'insetto, la carta per distruggermi la carta terreno, il panda stupido qui. Cioè, io li odio, ragazzi. Io questo deck lo sto odiando. Credo che lo farò a questo punto. Credo che dopo questa partita io prendo e faccio questo deck anch'io e andiamo a fare tutti gli stessi deck perché, boh. Perché, ragazzi, a questo punto, cioè, boh, mi dovete dire come si fa a giocare, vedete? E questo succede sempre ed è una cosa veramente, veramente bruttissima. Non posso neanche attivare l'effetto di muro a specchio, ma non lo avrei fatto a priori, comunque. E fatemi pensare, lui adesso avrà questo 1.3 che io devo per forza buttare giù in qualche modo. Il problema è che se io mi gioco faccia da uccello qui, lui si pompa. Faccia da uccello ha 1.600 e non faccio niente. Tutto perché mi ha levato la carta terreno. Cioè, non è semplice, ragazzi, eh. Davvero, davvero non è semplice. Ehm, boh. Proviamo ad attaccare e sperare che lui non abbia niente di importante, perché sennò... Sono 500, basta che ha un mostro da 900, basta che pesca qualche altra piccola cazzatella, ragazzi. E la partita è persa, veramente, la partita è persa. E di queste partite non so quante ne sto facendo. E sono tutte uguali, sono tutte uguali. Perché praticamente nel platino questi deck trovate. Quindi volete salire, volete arrivare in platino? Bene, utilizzate questi deck. Perché tanto loro utilizzano solo questi deck. Praticamente, ragazzi, due turni abbiamo perso per forza grazie alla sua carta. No, davvero, è brutto, brutto, brutto. Ecco qua, i primi 500, il prossimo turno altri 500. Qualsiasi cosa io adesso faccia non serve a niente. Quindi posso benissimo andare al suicidio, perché tanto non possiamo fare niente. Non si può fare niente, davvero. E vabbè che questo ragazzo poi, in confronto a tanti altri, ha avuto ancora più fortuna. Perché vabbè, mano iniziale da Dio, io non so come si fa. Però si fa, ragazzi, lo fanno. Possono fare queste cose. E loro salgono e noi rimaniamo qui. Nonostante, insomma, proviamo a fare dei deck seri, a giocare seriamente. E con dei deck, diciamo, che ne vale la pena di giocare, perché che cazzo, almeno uno gioca con un deck che ti dà voglia di giocare, non con un deck che devi fare sempre la stessa cosa, o comunque che devi fare la merda, perché quello sono, ragazzi, sono delle merde. Quindi, ragazzi, se state usando anche voi un deck del genere, sappiate che per me siete delle merde. Ho il telefono sempre scarico, ma non importa. Quindi, vinta, persa, praticamente, mi sa che la prossima che perdo mi fanno scendere di nuovo. Quindi, praticamente, ragazzi, in questo video non sono sceso, ma scenderò tra non molto. Quindi, ragazzi, io semplicemente vi volevo far vedere come procedevano le cose in questo torneo. Non so se riuscirò mai a qualificarmi. Fatto sa che vorrei almeno qualificarmi per avere una super rara e un'ultra rara a mia scelta, perché se vi qualificate avete questo vantaggio. E ci proverò. Tengo oggi e domani come giorni, proverò a qualificarmi. A partecipare seriamente al torneo, no, perché tanto ho visto persone che stanno già a 70.000 punti, quindi non solo giocano come dei malati, ma io non ci posso più arrivare arrivato a questo punto. Sono partito troppo tardi. Quindi, ragazzi, io davvero come al torneo vi ringrazio. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, condividete questo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e noi ci vediamo con il prossimo. Bella raga!